E beh, se mai vorresti trasformare la tua Royal Enfield 650 Twin in una vera cafe racer, non c'è problema, ci ha pensato MK Designs. L'azienda indiana ha appena rilasciato un kit di carine completo per le 650 Twin dall'aspetto piuttosto elegante. Realizzato in plastica rinforzata con fibre, il kit pesa solo 7 kg e viene fornito con tutto il necessario per la trasformazione ad una cafe racer. Sul sito web del produttore c'è scritto che ci vorrebbe meno di tre ore per l'installazione completa di questo kit, ma per la Interceptor bisognerebbe cambiare il manubrio interamente con uno clip-on, mentre per la Continental GT 650 si dovrebbero abbassare i semi manubri di 25 mm con un supporto incluso nel prezzo. Questo kit, come state adesso vedendo, include tutti i pannelli laterali e carenatura inferiore. Oltre ad avere un nuovo faro da 5 pollici e 75 è una carenatura che lo accoglie con un piccolo cupolino in tema con lo stile cafe racer. Ovviamente per chi vive in India il kit ha un ottimo rapporto qualità-prezzo costando solo 460 dollari, ma per noi europei c'è da pagare l'importo, tasse e spedizione che faranno aumentare di un bel po' il prezzo totale di questo kit. Non so esattamente quanto verrebbe a costare per noi italiani, ma se sei interessato ho lasciato un link al prodotto qui giù in descrizione. Poi se volete sapere esattamente il costo finale credo sia meglio inviare a MKDesigns una e-mail o un messaggio privato. Adesso fatto sta che non vi nego che ce l'ho un piccolo desiderio di montarcelo sto kit sulla mia Continental GT 650, ma voi che ne dite? Li contattiamo per vedere se ce ne mandano uno. Fatemelo sapere qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare sulla campanella così non perdete nessun nuovo video. Inoltre lo potete trovare anche su Instagram agm.moto. A prossima, ciao bella!